Pronto? Pronto signora, buongiorno! Eh, cercavo il suo figliolo Irma, è finita la carta in mano? No, ancora figliolo, non ci sanno Ha sbagliato numero Ma non è in casa di Pino Conca il professore? Si, Conca Amara, sono la sua moglie Però non è il mio figliolo è il mio marito Allora gli ricagamo stronzo Ma sarà caldo, no? Stai via! Si è venuta a sabotare È finita l'arte genica, ragazzi Tu sei troppo bella per studiare Senti, facciamo così Io adesso vengo da te e ti dico le domande dell'esame, ti va? Pino! La richiamo Fenaroni